Buongiorno, continua il lavoro del sottoscritto dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici in merito alla situazione e alle problematiche del nostro territorio dopo gli eventi meteorologici del 4 ottobre scorso. Negli scorsi giorni alla sabbia annuale dell'Anci ho avuto modo di incontrare l'ingegnere Fabrizio Curcio, capo Dipartimento Nazionale Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità dimostratemi e per avermi dato il modo di evidenziare direttamente la situazione problematica del nostro territorio e la necessità di raccogliere la richiesta della Regione Liguria per l'attuazione dello stato di emergenza. Nella stessa occasione ho avuto modo di condividere con il Direttore Generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, che anche vi ringrazio per la collaborazione, la possibilità di organizzazione di una comune iniziativa di sensibilizzazione nei confronti degli organi istituzionali sovraordinati in merito alla gestione dello stato di emergenza e alla gestione finanziaria degli interventi conseguenti alle sommergenze evidenziate dai comuni interessati. Per quanto riguarda il nostro comune, le schede di segnalazione di danni presentate e trasmesse dalla Regione Liguria da parte dei soggetti privati ammontano a Euro 1.177.208. Ricordo che invece dalle schede pubbliche comunali i danni ammontano una stima per interventi di prima di emergenza per Euro 83.122 e di sommergenza per Euro 2.124.055, per complessivi Euro 2.207.127.00. Ricordo che con le attuali disponibilità di bilancio ci consentono la copertura finanziaria fino ad ammontare di 85.000 Euro per interventi di prima emergenza di tipo A e di 944.294 Euro per interventi di sommergenza di tipo B, anche a seguito delle variazioni urgenti di bilancio attra scopo attuate dall'amministrazione comunale. Variazioni di bilancio che consentono, con le disponibilità in essere finanziarie comunali, di effettuare i primi interventi volti a garantire una prima messa in sicurezza dei dissesti presenti lungo gli alvi e le difese spondali, neanche le condizioni di transitabilità e sicurezza lungo le viabilità interessate dei dissesti con permanenza di alcune limitazioni a transito. In merito alla situazione della pandemia da gestire con tutte le sue problematiche anche sul nostro territorio, riscontro i dati ricevuti da Asale e di Isa che interessano il nostro comune. La situazione è la seguente, soggetti positivi 8, soggetti in quarantena 25. Questa è una situazione che deve essere costantemente monitorata e gestita, sollecito i cittadini ad avere comportamenti responsabili ed attenti. Rinnovo l'informazione ai cittadini e ai professionisti e a tutti i soggetti interessati ad interagire con gli uffici del Comune di Quiliano che nel 8 novembre è stato inaugurato il nuovo sportello telematico polifunzionale per tutte le richieste dei cittadini e degli utenti, i quali non dovranno più recarsi presso gli uffici comunali per le varie pratiche richieste di vario tipo, semplicemente potranno avvalersi anche del nuovo sportello telematico polifunzionale accessibile direttamente dal sito internet www.comune.quiliano.sv.it. Si tratta di un importante passo in avanti per lo sviluppo e la crescita del nostro comune che peraltro si pone in stretta continuità con gli obiettivi di transizione digitale, di apertura totale dei lenti ai cittadini e agli utenti, di crescita condivisa e solidale volta l'attuazione dei principi indicati nell'agenda 2030. Ieri sera presso il Teatro Nuovo di Valleggia è stata lanciata l'iniziativa promossa dalla città di Quiliano in collaborazione con Vini Riviera, Zool Food, Condotta del Savonese e Proloco Quiliano, Granaccia e Rossi di Liguria. Oltre che per presentare il programma è stata l'occasione per presentare le tre aziende nel territorio produttici del vino Granaccia. Tutto ciò di fronte a un numeroso pubblico che ha successivamente ascoltato lo spettacolo del comico cautontore Fabrizio Casalino. Oggi, sabato 13 novembre, appuntamento con la camminata organizzata dalla Proloco Quiliano sul sentiero della Granaccia. Domenica 14 novembre, presso la sala consigliare, la giornata inizierà con la presentazione della Masterclass dal titolo Alfabetizzazione all'audiovisivo, il settore dell'audiovisivo come strumento di marketing territoriale e rilancio dell'economia locale. A seguito delle esperienze già attuate sul nostro territorio ritengo che questo tipo di progettualità possa rappresentare anche un mezzo significativo per la promozione del territorio e del suo sviluppo economico e occupazionale. Per questo motivo sono state invitate le aziende e l'associazione del territorio. La Masterclass è inserita nei programmi del premio Quiliano Cinema. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, è realizzato con la collaborazione del gruppo Cineforum Quei Bravi Ragazzi e dell'associazione Proloco Quiliano. Il programma della giornata proseguirà alle ore 16.30 presso il Teatro Nuovo di Valleggio, apertura ufficiale del premio Quiliano Cinema 2021. Alle 17 omaggio a Max Croce, l'Italia a mano armata, con tributi filmati. Alle ore 18.30 Masterclass d'Italia e il cinema degli anni 70, interventi di Luca Merenda, Luciano Sovena, Alessandro Boschi e Steve della Casa. Alle ore 21, Savona su sette, ospiti Angelica Giusto, Diego Scarponi, moderati da Alessandro Boschi e Steve della Casa. Alle ore 22, proiezione del film Macaia di Diego Scarponi. La manifestazione è realizzata grazie al contributo della Fondazione De Mali. All'interno del Teatro Nuovo Valleggio ci sarà un'esposizione di locandine storiche originale di film degli anni 70, di proprietà del cinema di Arena di Borghetto Santo Spirito. L'ingresso alla Masterclass e agli eventi è libero su prenotazione obbligatoria alla mail servizi.cittadino-chiocciolacomune.quiliano.sv.it oppure al numero 347-21-02-965 per accedere ai eventi necessari dell'impasso. Sempre questa domenica alle ore 11, presso il Parco di San Pietro in Carabiniana, si è all'apertura della sedicesima edizione della Rassegna Granaccia e Rossa di Liguria, promossa da Prologo Quiliano, Zulfur del Savonese, patrocinata da Regione Liguria e dalla città di Quiliano con il sostegno economico della città di Quiliano e dello sponsor tecnico Conad Nord-Ovest. Segnalo che per il prossimo sabato sarà realizzata a Quiliano un mercato natura presso il Parco di San Pietro del Carpignano, arrivato al suo penultimo appuntamento dell'anno. Si potrà iniziare a fare i primi acquisti natalizia e l'insegna della bontà locale. Non mancheranno i laboratori, la degustazione e la presentazione dei prodotti locali, quali vino, olio, miele, formaggio, zafferano, birra e specialità estremamente locali, con l'idea di offrire una vetrina anche agli operatori commerciali locali desiderosi di proporre le loro specialità. I laboratori di questa edizione saranno anche la presentazione della nuova birra Altavia Gelinda, prodotta nel nuovo, nella nuova sede di Quiliano dalle ore 10, laboratorio didattico per bambini nel suo ambiente a cura di SAT, la raccolta è differenziata come piacevole gioco dalle ore 10 alle ore 11, mercato e salute, incontro con l'associazione Diabetici Savonesi dalle ore 11. In conclusione, informo che si sono svolte sabato scorso, con successo, le elezioni del nuovo direttivo del Comitato di Borgata a cui ha detto Pomo Fai. Il nuovo direttivo è così composto, Presidente Rosangelo Cerro, Vice Presidente Simona Pastorino, membro del direttivo Matteo Minetti. Auguro a loro un buon lavoro, così come è stato svolto dai loro predecessori. Buon fine settimana a tutti.